Qui un bellissimo ritratto di sinergia profonda tra istituzioni e purtroppo ieri invece ancora un motivo di divisione con il governatore che dice nullità eccetera. Non saprei commentare, il Presidente della Regione credo che ha detto che non saprebbe come affrontare un contraddittorio, forse una campagna elettorale perché io rappresento il nulla, per me va bene, non vado dietro a queste polemiche inutili. Spiace invece, quando ci saranno le campagne elettorali ci confronteremo, spiace che con lui non si riesce ad avere davvero nessun tipo di dialogo, però abbiamo fatto in modo proprio perché abbiamo un grande senso le istituzioni che nonostante questo tipo di comportamento del Presidente tra la Regione Campania e il Comune di Napoli continuasse ogni livello di collaborazione istituzionale perché poi i cittadini non devono pagare sulla loro pelle comportamenti che certe volte fanno parte del pre-politico che credo che il dialogo istituzionale prescinde dalle appartenenze politiche.